Wow! È un'enorme palla antistress! Cosa farai, Madison? Sembra che voglia riempire il cuore con le palline di gel! Wow! Ancora altre palline! Ecco qui! Ancora più divertimento! Idea! Proviamo ad aprire anche il mio gadget! È difficile! Oh no! C'era la farina dentro! Oh oh! Chloe, hai sporcato il puliziotto di farina! Voi, vorrete in troppo in prigione! Sembra che Madison per il pranzo abbia uno dog! O forse è solo del pane! Oh no! Ne voglio un altro! Un altro! Ehi tu! Voglio un altro dog! E che questa volta non cadi per terra! Quanti soldi farà del mio meglio! Ti mostro come funziona questo gadget! Basta mettere la salsiccia sulla lama! Premere! Ed ecco che affetta! Vediamo se ha funzionato! È perfetto! Le salsicce che sono cadute alla ragazza ricca sono perfette per Chloe! Sono mie! Oh no! Non ci riesco! Meno male che ho dei cerotti per tenere fermi le salsicce! Ce la posso fare! Questa salsiccia ha paura dei coltelli! Ah sì! Ha lo strumento giusto nei miei capelli! Una forchetta! Devo solo regolare i denti! Ed è fatta! Guardate con quanta facilità affetta la salsiccia! È perfetta! Che buona! Adoro i miei giocattoli! Guardate come sono divertenti! Mi fanno venire molta fame! Hamburger, patatine e popcorn! Oh che belli! Ne voglio uno anch'io! Oh! Perché sei scivola qui? Ops! Mi scusi! Pulesce tutto! Ora! Va bene! Aspetta! Spugna! Cosa vorrà fare Chloe? Tallerei i bordi della spugna! Devo fare un cerchio! Ora coloriamolo un po'! Un po' di rosso e un po' di verde! Et voilà! Ecco il mio hamburger! Adoro mangiare i vermi! Sono solo caramelle! Aspetta! Questa non è una caramella! Ah! Ma questi sono dei vermi ballerini! Sono divertenti! Un amo! Chloe sta cercando di rubare il verme di Madison! Ah! Ai! Le conne da pesca non sono messe in galera! Ah! Ah! Che schifo! Ma adesso respiro meglio! Tieni! Ah! Non sono un vedone della spazzatura! Aspetta! So cosa fare! Cosa farai con un fazzoletto e un pennello? Per prima cosa arrotola della carta attorno al pennello! Poi dagli la forma di un verme! Il mio verme ha bisogno di personalità! Quindi ci faccio dei puntini colorati e dei motivi su tutto il corpo! Ora gli do un po' di giallo e di verde! È perfetto! Ecco la tua nuova casa! O meglio, foglia! Guardate come si muove bene il mio verme! Wow! Come mai il mio verme non si muove così? Non è giusto! Uffa! Qualcuno non si pulisce il naso da anni! Che schifo! Lo appiccico qui! Aspetti! Ho qualcosa per lei! Sono sicuro che le piacerà! Ma ha il naso sporco però! Wow! Posso pulirglielo io! È divertente! Oh! Che schifo! Questa caccola è enorme! È appiccicosa! Vai via! Che cos'è? È morbido! Ho un'idea! Posso fare una pallina! Schiacciarla e metterci degli occhietti! Che carini! Un'ultima cosa! La bocca! Posso usare un cucchiaio? Pumpe la patate! Oh! Che carini! Mi piacciono un sacco! Oh! Che stupida sveglia! Le monete d'oro fanno miracoli sulle borse sotto gli occhi! Grazie! Oh! Che bel peluche! Ma quello che mi interessa è questa! La mini testa! Posso usarla come tappo del dentifricio! Guardate! Il mio dentifricio ora è dorato! È così che noi ricchi ci laviamo i denti! Va bene! Sono pronta! Ecco! Ho i denti dorati! Bello, vero? Ed ecco Chloe! Ops! Un altro giorno! Un altro incidente! Cos'è? Belma? Mi è venuta un'idea! Vediamo la mia creatività! Ta-da! È un tappo per il dentifricio a forma di Shrek! Basta metterlo sul tubetto del dentifricio e voilà! Ops! Shrek non sta molto bene! Ora spazzolare è più divertente! È disgustoso! Speriamo che sia aromatizzato il carbone! Le ragazze riusciranno a gestire questa situazione? Accetto la sfida! Vediamo quanti lecca-lecca riesco a mettermi dentro la bocca! Davvero interessante! Oh no! I lecca-lecca sono tutti caduti a terra! E adesso sono tutti sporchi! Oh no! Cosa faccio ora? Non si preoccupi! Questo piccolino proteggerà il suo lecca-lecca! Ecco! Questi sono suoi! Oh wow! Grazie mille! Giochiamo un pochino, ragazzini! Oh no! Oh no! Che buoni! Anche il mio lecca-lecca è sporco! Aspetta! È una sorpresa dell'uovo Kinder! Devo solo fare un buco sul fondo! Così! Poi aprirlo e metterlo dentro! Perfetto! Adesso non si sporcherà più! Oh wow! Quanti Pokémon hai, Madison! Ma... Ma... Non fare così! Che disordine! Pikachu! È Pikachu! Pagliamo un po'! Pikachu! Oh! Divertante! Pikachu! Oh wow! Ciao Pikachu! Non sei nostra amica! Non guardarla! Che cattive! Oh oh! Queste due stanno tramando qualcosa! Pikachu! Questa è una stretta di mano bella forte! Ops! Non mi sento molto bene! Sei stata brava, Pikachu! Pikachu! Oh! Oh! Cos'è successo? Un cartoncino giallo! Idea! Cosa farà Chloe con quel cartoncino? Ehi! Che brava! Ssss! Disegna faccia e orecchie! Ed è un origami a forma di Pikachu! Pika! Pika! C'è una Pikachu! Ah! Wow! Spaghetti arcobaleno! Non vedo l'ora di mangiare! Come si usano queste stupide bacchette? Oh no! Oh no! Attento! Che cosa hai fatto? Non è colpa mia! Ho solo bisogno di altre bacchette! Oh! Che bello un regalo! Ecco le mie nuove bacchette! Devo solo mettere le dita nei fori! E il gioco è fatto! Che buoni! Ora vediamo Chloe! Anche lei ha qualche problemino! Idea! Cosa farà Chloe con quella Barbie? Possa usare le sue gambe come delle bacchette! Vedete? Non ha bisogno di vere bacchette quando ho lei con me! Che bella idea! Le tue bacchette mi fanno ridere! Aspetta! Ma quella è la mia Barbie! Fermati! Una di queste Barbie riceverà un restyling oggi! Ho scelto te! Ti trasformerò in un emo! Per prima cosa devo raderti i capelli! Ora è benissimo! Perfetto! Ora ti colorerò i capelli con un pennarello! Lo stile è molto simile a quello di Mercoledì Adams! E ora un bel tatuaggio! E sei pronta, Rockstar! Ecco la tua chitarra! Oh sì! Rock and roll, baby! Wow! Che cosa stupida! Aspetta! Dov'è la mia bambola? Dov'è andata? Oh no! La tua Barbie è caduta nel butter! Oh che schifo! È tutta sporca! Porca! Oh no! Si è rotta! Devo fare qualcosa! Iniziamo con i capelli! Poi nascondiamo la testa all'interno del pongo! Così! Poi attacchiamo gli arti della Barbie alla palla! E ora coloriamo di rosa! Perfetto! Ora aggiungiamo delle corna! Una ciglia! E un occhio! Che forte! Mi piace un sacco! Ah! È abbastanza spaventoso, eh? Sembra che Madison stia giocando! Oh no! Batteria scarica! A cosa serve? L'opera! Va bene! Un martellino! Forse dovrei rompere la scatola! Wow! C'è un tesoro qui dentro! Ah! Quanti pezzi! Devo assemblare tutti i pezzi! Che simpatico cavallino! Adoro il mio animaletto! È bellissimo! Guarda! Chloe! Sei uscito da Minecraft! È tempo di costruire! Devo distruggere questo blocco! Ops! Oh, che male! Sei troppo goffa! Vediamo che cosa ha Madison! Bello! È un giocattolo ballerino! Maggiordomo! Ne voglio ancora! Sì! Eccoli! Benvenuti a questa festa! Oscillate! 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 È molto divertente! Cosa posso fare io con questo? Vediamo! Biglie nell'acquario e anche in bagno! Chloe ha in mente qualcosa! Nemmeno l'acqua sporca del gabinetto può impedirle di prendere quelle biglie! Prese! Devo solo mettere una biglia all'interno del palloncino e poi gonfiarlo! Wow! Sembra divertente! Non dimenticare di fare un bel nodo ora! Poi i diamoli degli occhi e una bocca! Che bella faccia carina! Mi piacciono! Ehi ragazzi! Bagliamo un po'! Sì! Ottima idea! Ci sono quasi! Prendi questo! Sì! Il nostro cibo! Sembra che mamma e Claria avranno delle coinquiline! No! Per favore! Cos'è questo posto? Toglietevi! Stiamo cercando di prendere questo dopo! Mangerebbe quello per pranzo! Guardia! Per favore! Ci cambi cella! No! Ci deve essere un altro modo! Gioielli in cambio di una nuova cella! Oro? Ok, andiamo! Venite con me! Essere ricchi è un bel vantaggio! Benvenuti nella vostra nuova cella! Sembra la stanza di un hotel! Ricchi contro poveri! Come sopravvivranno in prigione? Charlotte non si sente bene! Oh no! La mamma le sta togliendo una caccola con la sua uniforme! Che schifo! Ma la mamma povera non ha altra scelta! Oh! Quasi dimenticavo! Devi prendere lo sciroppo per la tosse! Starai subito meglio! Ok! Arriva l'aeroplanino! Non la voglio! Uffa! Eh? La guardia sta bevendo qualcosa! È Coca-Cola! Ta mamma povera ha subito un'idea! Bebebe! È mia! Lattina di Coca-Cola e sciroppo per la tosse! Strana copiata! Ma può funzionare! Ta-da! Tesoro bevi! Sì! Charlotte non sa che in realtà sta bevendo lo sciroppo! Non preoccuparti mamma! È il nostro piccolo segreto! Vado! Sì! Una scheggia gigante! Mamma guarda! Cos'è successo? Oh no! Signora! Non faccia così! Cerca un dottore subito! Oh mamma! Quella scheggia è enorme! Non preoccuparti! Andrà tutto bene tesoro! Il dottore è qui! Aspettate! Mi sembra familiare! Qual è il problema? Che scheggia cattiva! La vedo! Ma so cosa fare! Una cenaglia! Vieni qui! Ho paura! Ecco! Prendi! Sono tuoi! Ma trova qualcosa di meno doloroso! Questo gadget è perfetto! Succhierà la scheggia! Sì! Ottimo lavoro! Bel gadget! Svegliatevi! Sono sveglia! Charlotte, alzati! Svegliati! Sembra che Charlotte non riesca a sentire nulla! Ecco perché! Le sue orecchie sono piene di cerume e di randi! Cosa posso fare? Posso berlo con il naso? Oh! Mai più! Che mamma fortunata! Grazie! Cosa vorrà fare la mamma con quella? Ma anche un piatto di carta! Strana combinazione! Ma lei sa quello che fa! Fai un buco nel piatto! E inserisci la cannuccia vicino al suo orecchio! Ora riscaldala! Attenti ragazzi! Non fatelo da soli! Ora aspettiamo che la cannuccia si bruci! E poi vediamo il risultato! Fammi vedere! Oh mamma! Oh mamma! Ha riempito tutta la cannuccia di cerume! Disgustoso! Charlotte ora si sveglierà! Svegliati! Le orecchie pulite ti rendono sensibile a qualsiasi rumore! Smettila di scaccolarti! Non va bene! Allora mi pulerà le orecchie! Ah che schifo! Qualcuno non si pulisce le orecchie da molti anni! Fammi controllare! Sembra una grotta di parassiti! Beh! Guarda! Hai problemi di udito? Tranquilla! Ho il gadget giusto per te! Guardate! Si illumina! Ne abbiamo bisogno! Ma come lo compriamo? Ah sì! Guarda! Mi scusi! Non disturbarmi! Ti darò questi! Oh sì! Di cosa hai bisogno? Ci penso io! Vogliamo quel gadget! Per favore! Va bene! Vado! Oh! Sono nei guai! Voglio quel gadget! Per favore! Oh! Ecco signore! Clary ora si può pulire le orecchie! Oh! Qualcuno lo sta già usando! Ehi! Quello è il nostro! Ops! Scusa! Non c'è tempo per lavarlo! Su forza! Provatelo! Wow! Quanto cerume c'è lì dentro! Mi chiedo come abbia fatto a sentirci! Ci siamo quasi! Oh mamma! Che schifo! Sento meglio ora! E gomma da masticare! Non sono sicura che quelle sono ancora buone! Ma è sempre divertente fare una bolla enorme! Tranne quando scoppia e la gomma si attacca sui capelli! Ops! Oh no! Ai miei capelli! Sento piangere! Mia figlia ha bisogno di me! Fammi vedere! Oh no! Che disastro! Non rimane altro che rasarti la testa, tesoro! Oh! Non voglio! Assolutamente no! No! Farò presto, tesoro! Povera Charlotte! Ma è davvero l'unica soluzione? Sono calva! Sono calva! Che brutta! Vuoi essere arrabbiata! Oh! Idea! Cosa sta facendo la mamma? Anche la mamma è calva ora! Tale madre, tale figlia! Clary, quello è un fiammifero! Io adoro il fuoco! Oh oh! Questo non è il modo giusto per tagliarsi i capelli! Mamma! Mi sono bruciata i capelli! Cosa hai fatto? Maggior Domo! Aiutaci! Siete fortunate! Il Maggior Domo è anche un ottimo parrucchiere! Vediamo! Oh oh! Temo che dobbiamo tagliare i capelli! Fatto! Cosa hai fatto? Aspette signora! Le metterò delle extension! Tutto quello che devo fare è intrecciare i capelli finti con quelli veri! Fatto! Questo parrucchiere è molto bravo! E ora la parte migliore! Vernice spray! Colora i capelli con della vernice lavabile colorata! In questo modo sembrerà la coda di una sirena! Wow! Guardate! Ariel ora ha i suoi capelli di Clary! Mi piace questa treccia! La voglio anche io! Mi piace! Grazie mille! La la la! Adoro la mia Barbie! Oh wow! Il cibo è qui! I love rock and roll! Sì! Cibo! Oh no! La Barbie! Cos'era? Ops! La mia Barbie! Gli hai rotto una gamba! Va bene tesoro! Guarda cosa hai fatto! Ops! Non è un mio problema! Forse potete ancora risolvere questo problema! Fammi pensare! Oh! Una penna 3D! Ehi! Me la dai per favore? Devi pagare! Non ho soldi! Aspetta! La mamma sta cercando di tirare via un dente! Che ne dice di un dente d'oro? Oro? Oh! Va bene! Ecco! Prendi! Che tempo di un restyling! Avvolgi la gamba della Barbie in un foglio di alluminio! No! Non l'arrostiremo! La trasformeremo in una sirena! Ah! La mamma creerà una bellissima coda usando la penna 3D! Perfetto! Come ultima cosa, fai le pinne! Poi ritaglia un pezzo di staffa per fare un top! Et voilà! Una sirena arcobaleno! Nuota! Nuota! Guarda chi c'è! Wow! L'hai trasformata in una sirena! Mi piace un sacco! Mi annoio! Ti sei già annoiata, tesoro? Cosa vuoi? Certo! Chiama il maggiordomo! Prendi! Sono tuoi! Ma comprale qualcosa di carino! Il maggiordomo deve comprare qualcosa di unico! Unico? Aquaman! E' poliziotto! So cosa fare! Cos'è? No! È oro? Dammelo! Non così in fretta! Vieni con me! Che cos'è? La guardia si è trasformata in Aquaman! Quanto pesa! Wow! Aquaman è qui! Il maggiordomo ha fatto un po' di esercizio fisico oggi! Sembra che Clary sia soddisfatta del suo nuovo giocattolo! Non ti preoccupare, guardia! Sei molto carino! Oh! Che bella questa cubietta! Charlotte non si sta divertendo, però! Oh! Che noia! La mamma povera sta cercando di far divertire Charlotte! Ma sembra non funzionare! Pluriball! Assomiglia ad un po' Pitt! Guarda! No! Cos'altro posso fare? Oh! Idea! Una sorpresa per te! Ta-dan! È un cane! Puoi dargli da mangiare qualsiasi cosa! E puoi guardare come scende verso lo stomaco! Che noia! Cosa vuoi tesoro allora? Quel portatile! Cosa? Sì! Dai! Vai! Oh wow! Andiamo a vedere! Mamma e Charlotte si stanno divertendo! Cosa state guardando? E niente! Ti vedo! Sì! Dai! Ho un'idea! E' tempo di un trucco! La mamma ha bisogno di cartone e di alluminio! Avvolge il cartone con l'alluminio! Così! In questo modo! Sono sicura che ormai hai indovinato! Il prossimo passo è piegarlo a metà! Ora incolla una stampa di uno schermo sulla metà superiore! E sotto una stampa di una tastiera! Se vuoi che sia più divertente e posiziona un po' di Pluriball sulla stampa della tastiera! Ecco il tuo computer! Wow! Grazie mamma! Sì! Vai! Vai! Devi vincere! La la la! Che buffa questa faccia! È divertente! No! Non mi annoio! Questo non va bene! Fermati! Ehi! Qual è il problema? Abbiamo bisogno di una nuova idea! Oh! L'idea! Cosa stanno pianificando? Va bene! E fallo subito! Venite qui ragazze! Seguitemi! Sedetevi, rilassatevi e godetevi lo spettacolo! Che bello! Siete pronti a guardare il film più divertente di sempre? Wow! La ciolla si è appena trasformata in un cinema! Che bello mamma! Non dimenticate i popcorn! È ancora meglio adesso! È l'ora di pranzo! Dieci! Denti! Che male! La figlia è ferita! Oh no! Le sue dita! Poverino! Risolvi questo problema! Idea! Ho un fantastico gadget! Impedirà il cancello di chiudersi completamente! Ora le sue dita sono al sicuro! E c'è! Ne avevi di roba in quel naso! Amore, aspetta che ti pulisco! Oh no! Sei molto calda! Devi prendere uno spray per la gola! Apri su! No! Non voglio! Chiudiamo! Ah! Caramella spray! È già finito! Uffa! Sei mio! Caramella spray e spray per la gola! So cosa fare! Ho una cosa per te! Chiudi gli occhi! Spruzzerò lo spray per la gola! Questa caramella è buona, vero? Ho bisogno di fare la pipì! No! Aspetta! Non sederti! Potrebbe essere sporco! Devo vedere se ci sono dei germi! Guardiamo! Maggiordomo! Ha bisogno di pulire il bagno? Ok! Sei sicura di quello che stai facendo? Inizio a igienizzare la tavoletta! Perfetto! Ora ci metto una bomba da bagno! E adesso tiro l'acqua! Poi faccio dei fiori di gel per profumare il gabinetto! Oh, che carino! Ta-da! Che bello! Ma Ellie ha bisogno del bagno! Ho quasi finito! Metto un coprisedile... E' fatto! Perfetto! Il bagno è pronto! Puoi andare, tesoro! Spostati! Un po' di privacy, per favore! Devo fare la cacca! Oh, mamma! Ci sono addirittura le ragnatele! Ed è freddo! Ellie si è congelata come un ghiacciolo! Aiuto! Cos'è successo? La tavoletta del water è gelata! Cosa posso fare? Il mio pranzo preferito! Ho bisogno di quella scatola! Questa non mi serve più! Presa! Guarda come trasformo questa scatola in una tavoletta del water! Perfetto! Su, forza! Provala, tesoro! Non voglio sedermi su quella cosa oleosa! Devo pensare a qualcosa di caldo e pulito! Calzini? Oh, un'idea! Per fortuna i miei calzini sono abbastanza elastici da adattarsi a tutto! E adesso? Oh, è calda! I capelli di Barbie sono troppo lunghi, vero? Oh, mi annoio! Ho bisogno di trovare qualcos'altro! Che ne dici dei capelli del maggior domo? Oh, no! Oh, no! Attento! I capelli sono i miei capelli! Cos'era quel suono? Ho tagliato anche i miei capelli! No, dammi! Non si gioca con il rasoio! Maggiordomo! Compra lei un nuovo giocattolo! Vedrà cosa riesco a trovare! Voilà! Questo ragazzo ha bisogno di un nuovo taglio di capelli! Oh, che forte è questo gioco! Guarda! Sembrano degli spaghetti! Sembra molto divertente! Sono stata bravissima! Charlotte vorrebbe cambiare look oggi! Ma forse preferisce tagliare i capelli di qualcun altro! Oh, oh! Bersaglio individuato! Quanti bei capelli! Mi trovo del viso! Forbici! Capelli! Cos'hai fatto ai miei capelli? Lana? Sembra che la mamma abbia avuto un'idea! Taglia un pezzo di cartone a forma di testa! Poi disegna una faccia! E fai dei buchi lungo il perimetro della testa! Usa i ferri per far questo! Poi metti dei fili nei buchi! E legalo bene ai buchi! Così! Bello, vero? Questa ragazza ha bisogno di un nuovo look! Aiutala tu, tesoro! Lo adoro! Le darò una nuova pettinatura! Brava mamma! Oh no! Ellie ha un sacco di brufoli! Penso che dobbiamo scoppiarli! Che schifo! Ai! Oh no! Cosa posso fare? Ah sì! Devo fare una chiamata! Chi sta chiamando la mamma? Wow! Che velocità! Questo gadget ci aiuterà! Tirerà fuori tutto il tuo bus! Oh mamma, che schifo! Sta uscendo un sacco di bus! Ma vediamo se ha funzionato! Sì! Il mio viso è perfetto ora! Meno male! Ciao ciao! Allacci le cinture, dottore! Charlotte non può fare a meno di scoppiare i brufoli! Il porridge della mamma ha un po' più di sapore adesso! È disgustoso! Smettila, tesoro! Cosa farà la mamma ora? Bluribol e porridge! Idea! Inietta il porridge all'interno delle bolle! E fai un pallino rosso per farlo sembrare davvero un brufolo! Ta-da! Brufoli fai da te! Wow! È molto meglio che scoppiare i tuoi brufoli, vero? Forte! E sembra anche rilassante! Non riesce più a fermarsi! Oh, quanto bus! A lei non vuole mangiare degli snack! Oh! Maggiordomo, sei il solito goffo! Non lo voglio! Non va bene! Maggiordomo, devi pensare a qualcosa! Devo pensare... Forse egli ha un'idea! Davvero? Va bene! Chi è lui? Cosa sta facendo? Devo solo riscrutturare le barre della prigione! Fotto! Ta-da! Wow! Ma quelli sono marshmallow! Wow! Il mio sogno si è avverato! Sì! Ce ne sono altri! E anche dei cioccolatini! Oh wow! Vai piano però! Finiranno subito! Un lecca-lecca gigante! Non c'è da stupirsi che Charlotte lo voglia! Sembra buonissimo! Mamma! Voglio anche io un lecca-lecca gigante! Lecca-lecca dici? Vediamo! Ho mangiato tutte le caramelle! Cosa faranno ora? Aspetta! Guarda quel topo! Dove stai andando, piccolino? In un posto interessante? Quelle sono... Zollette di zucchero! Wow! Mi prendo una, ok? Shhh! Ho bisogno anche della scatola di fiammiferi del poliziotto! Tranquilla, tanto occupato un altro! Vediamo cosa farà ora la mamma! Metterò del colorante alimentare verde sulla zolletta! E poi la scalderà con il fiammifero! Si sta sciogliendo! Ora infilo un bastoncino! Et voilà! Un lecca-lecca! Tesoro, ho una sorpresa per te! Un lecca-lecca! Wow! Che bel trucco, mamma! Sembra che la famiglia ricca mangerà un po' a rigiore e parassiti! Maggiordomo? Maggiordomo? Vai a prenderci del buon cibo! Ci devo pensare! Senti! Va bene, ci penso io! Cosa farà la guardia? Sembra che stia facendo un buco nel muro! Il lago del McDonald's! Oh, forti! Tu Happy Meals in arrivo! Grazie, guardia! Buon appetito! Forti! McDonald's in prigione! Cosa si può volere di più? Hanno anche un addetto alle pulizie! Ma è un po' goffo! Cosa c'è che non va? Questo è il loro pranzo! Porridge con un contorno di parassiti! Assaggio prima io! Buono! Prova! Non lo voglio! Voglio quello che sta mangiando la guardia! Sushi? Penso di riuscire a farlo usando questo porridge! Come ci riuscirà la mamma? Palla di porridge! Ora arrotolerò un pezzo di giornale e lo trasformerò in bacchetti! L'acqua sporca del rubinetto sarà la nostra salsa di soia! Itadakimasu! Vediamo com'è questo sushi porridge! E' buono! L'ingrediente speciale deve essere la ruccine nell'acqua del rubinetto! Mangiare cioccolato è molto divertente! Fino a quando non si crea una pastella marrone sui denti! Hai denti sporchi! Vai a lavarteli, tesoro? No! Non voglio! Niente più dentifricio! Mamma, devi pensare a qualcos'altro per convincere tua figlia! Maggiordamo? Sì, signora! Soldi! Cosa succede lì? Mi è appena venuta un'idea! Ma quello è Shrek! Possiamo usare Shrek come tappo del dentifricio! Non sta molto bene, immagino! Wow! Che bello! Questo è un modo divertente di lavarsi i denti! Ci penserò io a te! Iniziamo! Oh no! Quanti brufoli! L'unico modo per risolvere questo problema è togliere via tutto il pus! Guarda! Il brufolo si sta restringendo! È disgustoso! Aspetta! Cos'ho in bocca? Dei cerotti! Beh, almeno puoi coprire la ferita di Barbie! Ma dobbiamo ancora pulire la faccia! Cosa posso fare? Oh, lo so! Ti pulirò con la mia saliva! Immagino che tu abbia mangiato del porridge per colazione! Oh, uno spazzolino da denti! Sì! Adesso lo taglio! Ora metterò la faccia di Barbie nel tubetto del dentifricio! E aspetterò un po'! Ecco qui! Non riesco a respirare! Oh, povera Barbie! Ora passiamo lo spazzolino e una spugna! Beh, almeno questo trucco sembra funzionare! Sai quel detto? Se bello vuoi apparire, un po' devi soffrire! Facciamo scoppiare quei brufoli! Forte! Dopo dovrà pulire anche la mia faccia! Ok, ci sono! Perfetto! Toglimi la gomma da masticare dai capelli! Ci sto provando! Ma non riesco! La mia testa! Oh, oh no! Penso di... Penso di aver tirato troppo forte! Mi dispiace! Ci penso io, tranquilla! Se non riesci a rimediare al danno, tanto vale ricominciare da capo, giusto? Ecco, aspetta! Hai un sacco di peli sulle gambe! Ecco qui, fatto! Ora ti darò dei nuovi capelli! Oh, che bella quell'acconciatura! Ma Scarlett è più interessata alla cavigliera! Mettiamo una gomma da masticare sulla testa! E poi attacchiamoci la cavigliera! Che bei capelli! Batte cinque! Oh, che puzza! Devi farti subito un bagno! Ma come? Questo gelato è buonissimo! Oh, è finito! Non ho più bisogno di questa vaschetta! E ora passiamo alle Pringles! Ah, una vaschetta di gelato! Oh, questa sarà la tua vasca, Barbie! Non dirmi che laverai Barbie con l'acqua del water! Oh, no! Ma purtroppo non abbiamo altra scelta! Ha funzionato! Forse prima avresti dovuto pulire il water! Che schifo! Aspetta, ho un'idea! Cosa farà ora? Devo solo prendere questa terra e mescolarla con l'acqua! Questo dovrebbe bastare! Mescoliamo un po' E il bagno di fango è pronto! Wow, che bello! Non vedo l'ora di provarlo! È così morbido e rilassante! Quelli sono cioccolatini? Un dolce bagno di fango! Non voglio mangiare questa roba! Ma non voglio nemmeno sprecarla! La userò come maschera per Barbie! Wow, che bel trattamento! Lo vorrei provare anche io! Ora togliamo quella maschera! Wow, la tua pelle, Barbie, è favolosa! Sei molto bella! Sono sicura che ora riuscirai anche a dormire meglio! Buonanotte! Oh no! Cosa succede là dentro? Ah! Barbie contro gli scarafaggi! Poverina! Andate via, sporchi insetti! Dai, Barbie, puoi farcela! Vincerò io! Ve ne dovete andare via di qui! Ciao, ciao! Ho vinto io! Io sono la regina di questa prigione! Oh no, guarda! Sei tutta sporca! Oh! Questi sono un sacco di prodotti per la pulizia! Trovato! Sacchetti di plastica! Creerò qualcosa con questo sacchetto di plastica! Ha solo bisogno di qualche ritocco! Eeeh, sei pronta? Ti ho fatto un bel vestito! Penso che il rosa ti stia bene! Ora facciamo un bel fiocco! E' fatto! Pronta per una sfilata di moda! Stendiamo il tappeto! Mettiamo a posto le corde! E che lo spettacolo abbia inizio! Mi sento la ragazza più bella del mondo! Wow! Gis! Mettiti in posto, dai! Grazie! Grazie! Oh oh! Sento odore di un incidente in arrivo! Ah? Oh! No! È disgustoso! Oh no! Un altro pericolo! Oh no! Una scheggia e una cacca! Meno male che questa ventosa che mi aiuterà a rimuovere la scheggia! E per quanto riguarda la cacca, ciao ciao! Ora devo fare delle scarpe però! Wow! Cosa sta facendo quella mucca? È un sacco di pongo colorato! Forte! Oh no! Non mi piace più! Wow! Questo pongo è mio ora! Ho un'idea! Per prima cosa avvolgo il piede di Barbie con della pellicola! Poi ci metto il pongo! Ancora meglio! Farò una bella scarpa con il tacco! Wow! Ci siamo quasi! Ecco fatto! È pronta! Adesso non avrai più nessun problema! Barbie adora le sue nuove scarpe! Ma ora è tempo di riposarsi! Aspetta! Sembra che Barbie abbia un compagno di letto! Oh no! Poverina! Vai via! Scarafaggio! Dobbiamo trovarti un nuovo letto! Una scatola di cartone! Sì! Ho un'idea! Devo solo ritagliare una parte! E poi colorarlo di un bel viola! E poi colorarlo di un bel viola! Wow! Che bello! Ora passiamo alle decorazioni! Mettiamo dei brillantini sulla testata del letto! Vedrai! Vedrai! Ti sentirai una regina! Ora ho un lenzuolo rosa! Un cuscino e una coperta morbida! Ma anche il tuo muro ha bisogno di una sistematina! Idea! Lo colorerò con una vernice spray! Ma questa cella ora sembra una camera di un hotel a 5 stelle! E quella scatola di fiammiferi? Devo fare una pila di scatole di fiammiferi! Poi metterci su del nastro viola! E incollarci delle perline blu! Le perline saranno le maniglie dei cassetti! Ecco qui! Adesso avrai tutto lo spazio che ti serve! Adoro la mia nuova stanza! Mi sento una regina! Buonanotte! Sono stata brava, vero? Mi piace molto anche a me! Ehi! Cosa stai facendo? Alzati e vai a pulire il bagno! Oh, uffa! Scarlett non è contenta di pulire il vase! Più veloce! Su, forza! Sì? Sto arrivando! Continuo a pulire tu! Bebebe! Oh no! Mi dispiace, Barbie! Non volevo spingerti! Ora sono tutta bagnata! Mi dispiace tanto! Tranquilla! Ci penso io! Oh! Idea! C'è sempre un tesoro che aspetta di essere disotterrato dalla spazzatura! Un palloncino! Cosa farà? Voglio tagliare il palloncino e creare qualcosa che Barbie possa indossare! Sei pronta? Ti ho fatto un costume da bagno! Prima il pezzo sotto! E poi il top! È fantastico! Una scatola delle Pringles vuota! Oh no! Quella fetta di pane è durissima! Può tagliare il barattolo di Pringles a metà! Colorerò una parte della confezione di blu! Fatto! Ci sono! Wow! Devo dire che è proprio una bella piscina! Sei stata molto brava, Scarlett! Sì! Come on Barbie! Let's go party! Questa sì che è vita! Wow! E Ken? Oh! Questo è amore a prima vista! È bellissima! Non posso lasciarti qui in prigione tutta sola! Ken ha rotto le sbarre della prigione! Cosa non si fa per amore? Oh! Che belli! Ehi! Cosa sta succedendo? Wow! Che bello! Barbie! Posso baciarti? Sì! Anche il poliziotto è un romanticone! Wow! Che bella storia d'amore! Hai ragione!